Per chi ha seguito un attimo la vicenda di questa mattina, avevamo pubblicato un appello ad alcinomi di una coppia che aveva abbandonato degli ingombranti vicino all'osia ecologica di via Tica Bianca praticamente. Subito dopo, dopo mezz'ora, il marito di questa signora ha chiamato, si è spiegato, ha dato delle spiegazioni, abbiamo preso per buona fede quello che ha fatto e comunque è stato a fine, verrà contattato da Veritas. Allora, al di là del caso di specie, al di là di questa situazione, permettetemi, voi sapete che tante volte noi abbiamo dato un po' di notizie, una delle caratteristiche di Chiesa Azzurra è quella di dare le notizie in maniera un po' circostanziata, un po' che scavano, un po' che mettono le persone anche di fronte, se permettete, anche a certe responsabilità. Ecco, allora qualcuno ci critica, per verità siamo in democrazia, personalmente non ho mai censurato nessuno, se qualcuno deve criticare, ovviamente dipende che tipo di critica, perché se sono offese o sono minacce, ovviamente allora lì c'è tutto un altro percorso, ma quando uno fa una critica civile, assolutamente è la benvenuta, per inciso, il blog più commenti arrivano e più gira, più aumenta, quindi ringraziamo anche sotto questo aspetto. Detto questo, mi permetto di evidenziare che il fatto di avere questa tecnica e quindi di entrare nelle cose e anche a gamba tesa a certe volte, ultimamente un po' spesso, devo dire un po' troppo spesso forse, ha dei risultati positivi, perché queste persone, soprattutto quando si rendono conto di aver sbagliato, va bene hanno sbagliato e magari a volte si può rimediare e a volte non si può rimediare, però almeno serve ad esempio ad altri e soprattutto magari non ripeteranno più la stessa sbaglio, voi per l'abbandono dei rifiuti, voi per altre situazioni molto più gravi. Ci tenevo a fare questa comunicazione, mi sembra che questo tipo di approccio dia dei risultati, ma in realtà non è stato solo oggi per questa situazione, ma ce ne sono state altre, mi pregio oppure forse qualcuno mi sono notato la testa di precisare ancora una volta, di evidenziare che Chioggia, il comune di Chioggia è l'unico comune che ha tre consiglieri regionali e abbiamo fatto una campagna spietata invitando la gente a votare solo i locali, i candidati consiglieri regionali e locali e questo è un altro degli aspetti, quindi chi si loda si si provoda, però questo metodo di pubblicazione delle notizie evidentemente funziona. Grazie per la visione!